RING NUMERO 1 RING NUMERO 1 RING NUMERO 3 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 Noi, 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 noi. Grazie a tutti. 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 Seconda chiamata sull'angolo rosso, Criston Thomas, ring numero uno, vince la semifinale, l'angolo due, il match numero 28, passa il turno, l'angolo due. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.